Ok 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 fermo un attimo Ma cos'è? Ok ragazzi forse avrete sentito tutta la parte iniziale dove parlavamo a bassa voce Mannaggia a me dovevo parlare ad alta voce Vabbè non importa fatto sta che qua siamo in un mondo come ho detto anche a Gabby Oddio cos'è? Un mondo attento Vieni 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 seguimi forza veloce E poi abbassa la tastiera schiaccia piano Ah scusa scusa Mannaggia a te che se no ti devo far fuori Allora stiamo attenti Prima di tutto inizia a prendere il legno tu inizia a prendere il legno Va bene va bene ma che legno è? E non lo so è strano è tutto un mondo strano Gabby è tutto un enderman Mannaggia a te se non stai attento ci sono gli enderman Sto attento però ci muoio Ormai si ormai ci muoio Anzi qua c'è l'acqua Gabby ho visto che c'è C'è l'acqua? Si 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 vieni vieni Ho mezzo cuore ho mezzo cuore E ormai mi sa che sei morto vero? Eh mi sa No però qua in teoria non dovrebbe arrivare l'enderman Però cosa? Cioè dovrei rigenerarmi non so con cosa Eh con il cibo qualsiasi cosa Non l'ho Qualsiasi cibo c'è Però scusami ma perché questo è enderman Ma sta salendo nell'acqua ma cos'è? Ma infatti ma cosa sta facendo? No aspetta ma questo è un po' bugato Fermi tu Allora fermo un attimo perché non sto più campendo niente È già iniziato questo video in modo strano Allora ragazzi praticamente qualcuno mi ha scritto sull'email appunto Che Sono morto Allora sono rispawnato qua Gabby lo so che sei rispawnato qua è normale Cioè nel senso noi siamo spawnati È normale Eh beh sì è vero Eh E poi mamma mia sto enderman basta Oh ma infatti ma continua No Gabby qua è pieno di enderman così non Infatti ma poi non li abbiamo neanche guardati No secondo me è perché li abbiamo guardati in realtà Non ce ne rendiamo conto Ma come? Mannaggia Stai fermo Allora fermo Ancora un altro enderman Rimaniamo qua in acqua Eh ho capito non possiamo rimanere qua in acqua Eh no infatti per tutto il video poi Eh esatto Allora dobbiamo anche cercare di capire un attimo il mistero Perché non è possibile Gabby lo so Eh ancora Vabbè allora End slime Guarda per terra Per carità Guarda per terra Va bene guardo per terra E prendi il legno come ti ho detto Perché qua dobbiamo sopravvivere Ok va bene Perché se non sopravviviamo qua Gabby Non possiamo capire il mistero che c'è dietro a questo mondo E fidati che a me sembra ci sia molto mistero Perché qua praticamente ragazzi C'è questo appunto fan Che in realtà non so se è un fan Però ha detto di essere fan Che praticamente mi ha mandato Oddio Questo mondo Mannaggia Gli slime E che in realtà non sono slime E praticamente questo mondo dovrebbe essere direttamente Nell'end Cioè perché se vedi Nell'end? Eh se vedi tutti questi enderman Però non è un end normale È diverso Eh direi che è diverso Non so Eh no infatti Cioè A meno che nella 1.16 L'end è normale Però No infatti Non è che nella 1.16 Hanno aggiunto queste cose Vero? Eh no no Non le hanno aggiunte Ma infatti anche perché Solo il nether hanno cambiato Esatto No infatti nella 1.16 Poi esatto C'è l'aggiornamento del nether Mica del land Quindi Mi sembra un po' Un po' strano Che ci siano queste cose È un mondo tutto quanto misterioso E dovevamo cercare di capire il mistero Forse è stato lui Che magari ha fatto qualcosa Ma mi sembra strano Perché normalmente In minecraft Non si potrebbero fare queste cose Ma infatti Cioè Non esiste neanche questo legno Legno Esatto Questo mossi Glow Glows Cosos Non lo so Poi questi slime Nell'end non esistono Eh esatto Gabri tu stai sveglio però Per carica Eh sì sono sveglio Sono sveglio Perché già all'inizio abbiamo parlato basso Vuoi continuare a parlare basso O pure di svegli No 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 Sono sveglio Ok bene Allora Forza Adesso Cos'è questa Allora questa è una crafting table Ma vedi è diversa Eh sì è tipo azzurra Esatto Ma se io scavo qua Allora inizia a scavare Dammi tutto il legno che hai preso Inizia a scavare sotto Questi Sì esatto Dovrebbe essere una sorta di Però mi sa che serve il piccone Ah davvero Eh sì Porca miseria Allora te lo faccio io Tranquillo che Dunis ci pensa a fare queste cose Non ti devi rubare Va bene va bene Ma serve il piccone O serve la pala domanda Il piccone Il piccone Gabri Sei sveglio Sì sì sono sveglio Sono sveglio Ok è endstone Perfetto Allora tieni questo piccone Mannaggia cosa sto facendo Grazie grazie Veloce scava sotto Muovi il sederino Bravo Sì 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 mi muovo Ecco vedi serve la del piccone Quindi praticamente qua Non c'è cobblestone O robe di questo tipo Eh no c'è la endstone Eh però con la endstone Non è che si può fare il piccone in Cioè dico il piccone in endstone È vero Eh Cioè non Mi sembra un po' inutile La endstone a questo punto Cioè allora Cerchiamo di capire bene E poi comunque Cosa è che mangiamo qua Perché noi abbiamo Una fame limitata Eh esatto Cioè è minecraft normale Comunque Cioè anche se è maledetto È comunque minecraft Sì è tipo un minecraft Maledetto Ma io non ho capito bene Cosa che tipo di minecraft Cerchiamo di scavare Ancora più in fondo Ma questa endstone Posso dire che è un po' strana Perché Ma come è strana Eh si scava male Non è che magari si può fare Passami la endstone Che hai trovato tu Va bene tieni Magari in questo minecraft Si può fare Certe Ci possono fare certe cose Con la endstone Eh può essere Vediamo No No Peccato Eh infatti mi sarebbe Sembrato un po' strano Allora Cerchiamo di capire bene Ah vedi Ma è come se fossero aggiunte Pure queste cose Perché c'è per esempio Il barile C'è l'enderman Porca miseria Gabri No l'hai visto L'hai visto Davvero Perché ti ha seguito Eh no Forse no Speriamo di no Mi stavi facendo spaventare Eh scusa Scusa Ok no io ce l'ho la spada In In legno Ah meno male Leggere shader Che secondo me Sono anche carine Allora Esatto vero Fermo Allora Eccomi eccomi Dobbiamo cercare di capire bene Cosa possiamo fare qua E che cosa possiamo mangiare Peraltro Perché per esempio Questa cosa dovrebbe essere La possiamo mangiare Tipo questa cosa End Lily Seed Ma cos'è scusa Non lo so Vabbè Non Lasciamo perdere Allora cerchiamo Ecco qua fra l'altro Visto che è land Appunto ci sono anche queste cose qua Vedi Cioè queste isolette Sono tutte divise Eh sì esatto È come land Cioè È esatto Come land Ma solo che è molto diverso Cioè non è come land È diversissimo Cioè è completamente diverso È esatto Quindi Stai fermo per carità Ah scusa 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 Che sentivo nell'orecchio Mannaggia a te Una roba veramente pazzesca Cioè tipo tutto Era veramente orribile Adesso Gabri seguimi Arrivo arrivo Dovemo cercare di capire bene In che razza di mondo siamo Capitati Perché poi comunque non è normale Poi Non lo so Cioè ci sono troppe cose strane In questo Minecraft Davvero Cioè Ogni volta ne troviamo sempre una nuova È Bellissimo Cioè a me piacciono troppo queste cose Mi appassionano Mi piacciono Sì esatto Sono molto belle Sì Ma questa è sabbia Sì è sabbia È sabbia Però è sabbia And stone dust Eh Esatto Quindi praticamente dovrebbe essere Sempre sabbia però del land E poi comunque Qua vedi È come se ci fossero più laghetti Che cose Sì esatto Ah poi questa dovrebbe essere una lanterna Che peraltro si può pure pure piazzare Quindi Ma che bella Esatto Quando ci costruiremo la casa Potremmo usarla Quindi Direi di prenderne un po' Anche perché poi dopo magari le torce Visto che non ci sono Gabri Prendiamole Eh esatto Direi di prendere queste Queste lanterne Tu peraltro prendi Sto morendo Un cuore Un cuore Come fai a morire? Oh porca mia Lo slime Porca puzzarda Dobbiamo stare attenti però Andiamo Allora esatto No scappiamo Non ho legno io Non posso farmi la fada Eh Eh Allora Scappiamo immediatamente Via per sempre Poi Andiamo Andiamo Mi sa che qua si può anche salire qua sopra Vedi Wow bello No no Aspetta vediamo All'enderman No e scappiamo scappiamo Attento all'enderman per carità No però qua come facciamo a rigenerarci domanda E io non posso neanche prendere danno Perché ho un cuore Ah Niente E mi sa che è la fine qua Come facciamo Gabri Dammi un po' un Cosa Cosa dici Dimmi un po' tu Cosa Proviamo a continuare A vedere se c'è un altro bioma Possiamo provare così Magari ci sono degli animali Possiamo prendere cibo Dove sei finito Potrebbe essere Ah un altro laghetto Sì esatto Potrebbe essere così Esatto Cioè che probabilmente Ci potrebbero essere degli animali Che Magari La vedo un albero Credo che è lo stesso Sì Sì È un'altra isola Però uguale Mi sa E però è qua in giro Non trovo niente Mi sembra Vabbè Direi Direi di continuare Per questa strada Poi casomai Non lo so Ci rivedremo Gabri veloce Arrivo arrivo Perfetto Allora Siamo arrivati qua In quest'isola Però devo dire Che è molto bella Comunque quest'isola Perché Sì esatto Guarda c'è pure un lago E questo proprio Non ne ho idea Cioè Sembra quasi come se Come se fosse Una sorta di Relitto Esatto tipo Land city Cioè Questa è la cosa Che mi ricorda Però Non sembra Cioè comunque Poi dopo Non è Ci sono delle mucche È vero È vero Wow Bello Bello Possiamo prenderle Ok Uccidiamole Quindi praticamente Spawnono anche qua Ma mi sembra strano Vedi allora E infatti Anche le pecore E così È vero E si comportano Come se fosse Anche se non so Se serve qua Il letto No secondo me Non serve a niente Però vabbè Anche perché Poi mi sembra Che sia perennemente Notte Certo che poi Comunque qua È tutto luminoso E quindi Non No non serve Non serve Esatto Però anche i maialini Wow bello È vero Non male A me ne abbiamo il cibo Esatto Poi possiamo anche fare Insomma Possiamo fare tutte quelle cose là Delle farm eccetera Se spawnano qua Bello bello Sì esatto Allora Ma quanti sono Facciamo Mi sa un bel po' Allora tu prendi così Io esploro un attimo Però dobbiamo stare attenti Per carità Perché qua comunque Gli slime ci sono Poi dobbiamo È vero Eccoli qua È È Vedi Doviamo cercare anche di sopravvivere Guarda che questo è un mondo Super difficile È Ho notato Ho notato Anche perché poi comunque qua I ragazzi non hanno visto Ma ci abbiamo messo davvero tanto È per arrivarci Cioè nel senso Non è stato per niente semplice Perché poi comunque Oltre al fatto che ci abbiamo messo tanto tempo Ma siamo anche morti Un paio di volte Eh sì esatto Abbiamo perso un po' di volte tutto No Allora Ha perso Se io ho perso qualche cosa Sì ma Quello perché secondo me C'è una sorta di entità nel mondo Perché poi Comunque ho notato che c'è Il keep inventory Che però Cioè meno male Eh esatto Sì Gabri Io sono morto Non ho perso niente Però praticamente Ho visto che a volte Ci droppano le cose per terra Quindi Non so chi in realtà Una sorta di entità Secondo me Un'entità secondo me Di questo mondo in particolare Di questo End però corrotto Ah è un'altra entità Oppure è la stessa Che abbiamo noi No In realtà Questa cosa qua Non la posso per niente sapere Gabri Speriamo Non lo so Speriamo in realtà Penso un'altra Poi dopo Non so se Però guarda che bello È veramente bellissimo Tanto bello Cioè allora So che sembra strano Che comunque Sia così tanto bello Però Cioè è bello Cioè almeno a me piace Poi dopo non lo so Magari a qualcuno non piace Però comunque qua Si deve stare attenti Perché qua si cade per te Cioè qua si cade nel vuoto Oddio come? Eh sì siamo nel land Gabri Ah Pensavo che c'era un buco Che si cadeva Invece no È proprio il ponte qua No 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 È proprio che si sta Dobbiamo stare proprio attenti Perché Eh sì esatto Oh ma qua sembra Che ci sia un virus gigante Cioè nel senso sembra L'enderman Eh l'enderman Porca puzzarda Devo andare Scappiamo 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 Andiamo nell'acqua Nell'acqua Aiuto 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 Andiamo scappiamo via Enderman di schifosi Eccolo Continuiamo ad avere Questo schifo di spade Che non ci ucciderà Non ci ucciderà mai Nessuno Serverà per almeno Quelle di pietra Eh sì esatto Tra un altro Sono due gli enderman ora Almeno Un enderpearl Eh sì sai che è utile Wow Vabbè Però comunque è utile Tieni tieni Ok Magari possiamo andare In un'isola Senza usare il ponte Esatto Che è la cosa più importante Questa cosa qua Cioè nel senso Ti immagini Andare nelle isole Senza usare i ponti Cioè È veramente Pazzurdo Oh No un altro Un altro enderman Sì sono sveglio Allora parla Gabri parla Eh sì 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 Parlo Parla Mannaggia Eccomi 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 Perché non stavi parlando Eh non lo so Non lo so Vuoi che ti uccida io No no Non ce n'è bisogno No un altro enderman Stai Stai nell'acqua Va bene Eh va bene Che poi non è un altro enderman Ah poi ti ho detto di guardare per terra Perché non guardi per terra Eh ma mi vuole già ammazzare Ecco pure lo slime Oh Basta hanno rotto le palle Insomma Infatti Oddio che brutti che sono questi Eh fanno un po' schifo Sembrano Vabbè Non dico cosa sembrano Però veramente cose veramente terribili Infatti Gli altri mondi appunto Che poi veramente Come è fatto questa Questo fan A fare questa cosa Non so Ma infatti Eh Forza vieni Muovi il sedere Arriva 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 Qua non aveva un tempo da perdere Eh stavo dicendo No un altro Non ci credo Gabriele hai rotto le palle Ma non l'ho neanche guardato Cioè guardavo per terra Ok perfetto Un'altra enderpearl Allora Vediamo se ce la facciamo Ho detto Qua sembra che ci sia Una sorta di virus gigante In realtà Secondo me è una sorta di Non lo so Una sorta di Di cosa Di formazione Tipo terrestre Comunque O comunque Sì esatto Qualcosa di Di geode Comunque della terra No non so cosa sto dicendo Comunque No ecco Il geode Tipo qualcosa Vabbè insomma T'hai zitto È colpa tua Se non so parlare Ma no Non è colpa mia Perché devo Essere nell'avventura con te Magari qua dentro Troveremo anche i nostri amici Chi lo sa Sarebbe bello Sì sarebbe bello Magari poi dopo Chissà Li inviteremo Allora Sicuramente Poi arriveranno anche altri In realtà Poi questo È uno spoiler Ah che bello Lo spoiler Comunque dai direi di stabilirci qua Per quest'isola È anche bello questo posto Sì e poi è molto grande Devo dire Cioè non finisce mai È molto bello Possiamo costruire qualcosa Esatto ci costruiamo una casa Magari O comunque un qualcosa Con i materiali Magari il legno Eccetera Comunque una fortezza Anche abbastanza protetta Perché appunto È pieno di Qua c'è una cassa Un barile Però è vuoto Davvero? Sì Ah interessante Un barile azzurro Con il legno Questo qua Ah quindi è vuoto però Sì possiamo usarlo come cassa Come casa? Poi possiamo usarlo No cassa Ah ecco no Perché pensavo Avvettiamo dentro il barile Non ci stiamo tutti No direi di no Gabri Non ci stiamo Ah io devo mangiare Gabri Devi mangiare Ho questo cibo qua Eh va bene Poi casomai ci facciamo anche una fornace Del land Non lo so Vediamo se Eh magari si può fare Eh magari sì Magari si vediamo Perché la crafting table si può fare Eh esatto Poi comunque Magari cercando qua dentro Nel libro del crafting Si può fare tutto Boh magari Magari sì Chi lo sa Comunque Gabri Niente È stato bello Provare questo video Casomai Vedremo quali altri mondi strani ci saranno Ci manderanno i nostri fan Eccetera Scriveteci ragazzi nei commenti Se voi avete Mai visto altre cose nei commenti Altre cose strane Dico nei commenti Cioè comunque non nei commenti Ma magari Diciamo nei vostri mondi Se avete mai trovato cose strane E scrivetecelo nei commenti E quindi niente E noi ci vediamo Al prossimo video Iscrivetevi al canale Lasciate like E niente Alla prossima avventura Ciao Ciao Si sente in bella tv Si sente in bella tv Alla prossima avventura